ciao a tutti belli e brutti benvenuti nel mio canale oggi un nuovo video nuovo video profumoso in collaborazione con patrizia del canale vandorle cioccolato e con mary del canale vanilla chic e ovviamente giù nell'info box vi lascio i link di mary e di patrizia mi raccomando andate a vedere anche i loro canali perché faremo vedere 10 profumi per l'estate quindi la nostra poten estiva non vedo l'ora di vedere anche i loro video gli mando un grosso bacio grazie ragazze per aver collaborato con me in questo video super profumoso perché noi abbiamo la profumite a tuta ma non voglio perdermi in chiacchiere non voglio spolugare come sempre ma voglio subito farvi vedere al numero 10 che cosa vado a mettere cosa non mettere per la nostra estate se non una bella profumata nella mia top 10 post azioni 10 troviamo un'acqua profumata di vittoria secrets in questo caso la oasis questa qui che è uscita l'anno scorso ma che credo è ancora insomma in produzione è un'acqua profumata molto molto fresca molto frizzante dalle note anche marine perché c'è anche una nota marina all'interno ci sento anche del cocco ma la nota un po marina frizzante e solare e predominante e quindi ovviamente le fragranze vittoria che spesso riuscite a trovare anche in offerta tipo io ne avevo prese tre sembra che pagandole ognuna 10 bar 12 euro più o meno e questa qui è una delle mie preferite pur essendo un'acqua profumata va a durarvi le tre ore abbondanti gli acqui profumati di vittoria sono abbastanza persistenti poi ovvio sono anche profumate non sono profumi il pack è di plastica anche se carinissimo ve le ridate come se non ci fosse un domani ve le potete portare pure in borsa e quindi alla postazione 10 troviamo un'acqua profumata di vittoria poi 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 passiamo alla numero 9 al numero 9 metto per la mia estate per i miei profumi top per l'estate dolce di dolce gabbana garden quindi dolce garden molti profumi li avete già visti nel passare dei mesi e quindi ve li ritrovate in questo video ma perché questo video vuole essere un sunto dei miei preferiti e quindi ritrovate anche profumi che già avete visto alla postazione numero 9 troviamo dolce garden come vi dicevo un profumo molto dolce molto caldo all'interno anche latte di mandorla e io adoro è una profumazione veramente molto 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 calda molto gradevole molto dolce molto anche un po solare il latte di mandorla fa sì che questa fragranza diventi veramente a tratti anche un po sdolcinata per me non stucchevole però mi rendo conto che per alcune persone può risultare dolciosa per me che amo i profumi estremamente gourmand ed estremamente dolciosi e che mi fanno ricordare quindi latte di mandorla mandorla mi fanno ricordare l'estate nonostante la loro dolcezza perché molto spesso i profumi gourmand tentendo almeno io ad utilizzarli nelle nei mesi più freschi ma questo per me è super super estivo o anche perché come vi dicevo latte di mandorla cocco frangipane ilang ilang c'è proprio un tripudio di estate io l'ho presi l'anno scorso appena uscito presi il 30 e meglio come potete vedere avendo io tanti profumi e fin troppo utilizzato e proprio questo profumo mi è voglia di indossarlo e di mangiarlo quasi veramente veramente top non visto a leggere tutte le note perché se non facciamo pasqua natale santo stefano solo di qualcuno che di cui non vi ho mai parlato vi andrò anche a leggere le note ma di questi qua di cui magari vi ho parlato ampiamente di qualcuno ve lo lascio anche su nelle schede magari proprio di questo vi dico quello che ci sento io e come li avverto io quindi questo qui è un tripudio di cocco ilang ilang latte di mandorla e chi più ne ha più ne metà d'estate estate addosso ma di parecchi vi dirò estate addosso è proprio di parecchi poi 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 voglio parlare di profumo di cui non vi ho mai parlato prima di cui ho un sample da 10 ml di osmanto e mango osmanto e mango di massimiliano torti come potete vedere è praticamente a metà quindi l'ho utilizzato e diverse volte partiamo dal presupposto che i profumi di massimiliano torti ne basta poco non serve tantissimo e quindi significa che io l'ho indossato ed utilizzato più e più volte sto pensando di comprare anche la full size perché per me è veramente un profumo molto molto valido vi voglio leggere però le note di osmanto e mango vi dico subito che il mango si avverte tantissimo le note fruttate si avvertono e un profumo molto molto fresco molto persistente massimiliano torti le sue fragranze le sue fragranze le pensa le studia come fragranze stratificabili con altre con altre sue creazioni io però smanto e mango amo indossarlo da solo vi voglio leggere le note a questa è una fraganza che uscita quest'anno infatti io prima di acquistarlo poiché non avevo nessuno che nessuna profumeria vicina perché i profumi di massimiliano torti non si trovano facilmente non avevo nessuna profumeria vicina ho detto ok sai che c'è ne provo un 10 ml una mia amica ti mando un grosso grosso bacio a me nemmeni ha inviato un 10 ml e ho detto ok mi piace all'inizio devo dire che quando l'ho sentito detto non lo so mi fa pazzire poi dopo invece devo dire che mi sta piacendo un sacco vi voglio leggere le note frutto della passione bergamotto lampone mango gelsomino rosa vaniglia legni dolci osmanto muschio mughetto vetiver e legni preziosi che cosa ci sento prevalentemente io io ci sento prevalentemente il mango che fa da padrone assoluto e io adoro il mango in estate la frutta il mango mi riporta ai cocktail ragazzi io spesso vi parlo di cocktail alla frutta di cocktail tropicali di bevande dissetanti e questo profumo è fresco dissetante mangoso il lampone si avverte perché si avverte quella nota di lampone un po acidula ma non dolce perché questo profumo non rimane dolce ma rimane fresco frizzante fruttoso dà proprio l'idea di un cocktail tipo per intenderci un cocktail al mango un cocktail tropicale alla frutta tropicale sapete che cocktail spesso non sono particolarmente dolci perché l'alcol li rende un po freschi e frizzantini ecco perché io spesso paragono alcuni profumi ai cocktail perché questo profumo non è dolce ma è fresco e frizzante fruttoso mangoso si avverte quella nota di lampone la nota dello smanto che gli dà quello sprint in più quindi super super adatto a questa calda calda estate poi passiamo alla postazione numero 7 io non posso non posso fare almeno del mio monoi di brocci profumo che praticamente finito ma ne ho già un altro pieno e comprato difficilmente io termine profumi difficilmente ne compro già altri prima di determinarlo ma monoi per me monoi monoi molti lo reputano un profumo troppo dal sentore troppo sintetico troppo evanescente adama molti non piace io lo adoro su di me è eterno non è affatto evanescente è un profumo dove dove il monoi e il tiaree sono le note predominanti sa tantissimo di crema solare io adoro i profumi che sanno di crema solare ma su di me come vi dicevo è eterno io me lo sono spruzzato stamattina perché l'ho indossato stamattina sulla mia maglia c'è ancora con noi ma io sempre me lo porto in vacanza l'unico profumo che io porto sempre ed è insostituibile per le mie vacanze e monoi per il resto io porto sempre e magari poi compro qualche profumo lì quando vado perché amo comprare i profumi quando vado in un posto per poi ricordarmi di quella di quella vacanza di quelle sensazioni per me non c'è vacanza non c'è estate se non c'è monoi è intensissimo cioè io non capisco perché alcuni dicono che non dura ma non c'è per me è super super persistente non lo sento sintetico per me non è sintetico poi ogni naso è un qualcosa un mondo a sé ma per me non è fatto è il monoi più intenso più monoi affiancato dal monoi di montale di cui non vi ho ancora parlato perché anche il monoi di montale è meraviglioso l'ho acquistato quest'anno non ve l'ho messo in questa top 10 perché non vi potevo mettere tutti i profumi al monoi poi ovviamente ve ne parlerò in un prossimo video quindi rimanete sintonizzati sul mondo di sarà mi raccomando non mettere il monoi di brochet che viene bene parlo veneri parlo vene straparlo cioè io penso che vi ho fatto venire la nausea con questo monoi che per me è estate addosso ed è intensissimo per me è non c'è mondo non c'è estate se non c'è monoi di brochet quindi mi raccomando e veloce non lo togliere mai perché sennò mi bevi un colpo assoluto perché so che hai rimosso il cocco che non dovevi rimuovere tra i profumi e rimosso anche la vaniglia e questa cosa non la dovevi fare non me la dovevi fare cara e brochet e quindi al numero 8 al numero 10 98 al numero 7 troviamo il monoi super super persistente su di me per nulla sintetico che sa d'estate sa di crema solare sa di abbronzati simi e lo adoro lo adoro lo adoro poi 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 al numero 6 non potevo non mettere che rosa rosa di blu marine rosa di blu marine che un profumo che io amo un profumo floreale anch'esso cremoso anch'esso con Ricordi di cremosità di solarità di leggera crema solare anche se dalle note non sembra ma vi posso dire che anche questo qui anche se sono completamente diversi perché questo è monoi tiare e questo qui è è monoi quello di e monoi tiare e da una persistenza per me assurda anche rosa di blu marine per me ha un'ottima persistenza con le note no di leggo le note di rosa di blu marine all'interno ci troviamo è una fragranza di soffila beh voi sapete il mio amore per soffila beh non so come mai ma adoro questo naso e all'interno ci troviamo pergamotto petali di rosa tuberosa giglio pasciuli muschio vaniglia se io dovevo leggere solo le note io non andavo ad acquistare rosa assolutamente anche perché non amo la rosa ma vi assicuro di questo profumo di tutto sa fuori che di rosa è un profumo dove ovviamente le note fiorite si avvertano ma sono le note fiorite così cremose quasi da renderlo un profumo che sa di creme solari per intenderci è cremoso al punto da sembrare una crema solare molto delicata che non c'entra con monoi di brocci che proprio spama un botto esagerato questo qui rimane più delicato ha un ottimo sillage per esempio il profumo che fino adesso ha più sillage bambamma di tutti e sicuramente ma non voglio esagerare non ci faccio la doccia con i profumi io vado lì e spruzzo rispruzzo straspruzzo come se non ci fosse un domani tutti e quelli che vi ho fatto vedere fino adesso hanno tutti un'ottima ottima persistenza salvo per l'acqua profumata come vi dicevo che ha una persistenza media di un tre ore se parliamo di osmatto e mango parliamo di dolce garden e parliamo di brocci persistenza super wow anche blu marine rosa ha un'ottima ottima persistenza ho sentito anche l'infea e devo dire che non mi dispiace quei profumi di bruschini in fea rosa e anna sono tutti molto molto gradevoli ma in questo caso parliamo di rosa che non sa di rosa ma sa di cremosità quasi come vi dicevo prima di una crema solare ma una crema solare dolce e delicata poco invadente anche se le note di floreali ovviamente si avvertono c'è all'interno la tuberosa ma non è una tuberosa che predomina non è una tuberosa che si sente particolarmente non è fastidiosa velo super super veramente un wow per questa magica e caldissima magica estate super caldissima più e super magica poi 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 alla postazione alla postazione qui ragazzi lo dovuti mettere entrambi perché io non so scegliere quindi dieci nove otto sette sei cinque alla postazione numero cinque io ve le devo mettere per forza entrambi ragazzi perché per me non c'è stata non c'è stata se non c'è il rem non c'è stata se non c'è acqua di sale acqua di sale di cui e di rem di cui vi ho parlato riparlato e straparlato acqua di sale che è di profumo che sa di mare di sale di un tuffo nel mare in un'acqua cristallina tenso acqua di sale rimane sicuramente molto più intensa e poi c'è il rem rem che ovviamente rem che ovviamente è completamente diverso chi dice che rem e acqua di sale si somiglino sono simili per me dice sciocchezzuole sciocchezzuole perché per me acqua di sale è intenso e super persistente super strong ne bastano due spruzzate E' il mio marino per eccellenza cioè nel senso che io ormai non posso più vivere senza acqua di sale Subito dopo viene rem viene Rem con la sua notte con le sue note saline con il suo sillage più discreto con la sua fragranza fresca che mi riconduce mentre ecco Acqua di sale mi riconduce al mare della sardegna e al mare della grecia o a un mare cristallino dei caraibi Rem mi riconduce al mare nostro ma Cioè è più fresco tipo un mare della calabria o un mare della puglia Dici ma perché distinguo i mari perché ogni mare al suo odore e la sua persistenza Mentre acqua di sale super persistente super strong acqua acqua di sale super persistente super strong acqua di sale rimane un po più meno scioso un po meno persistente un po meno intenso ma non posso fare a meno di nessuno dei due poi 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 alla postazione numero 4 non potevo che non mettere terracotta terracotta di garlemmi di cui vi ho parlato in un video precedente a questo ma è il mio mai senza ormai terracotta terracotta che so che non piace a tutti perché è un profumo si cremoso si estivo ma rimane anche molto 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 floriale il suo essere così intenso pur essendo uno dei toilette Mi rendo conto che su alcune persone non non piace su di me è molto persistente la nota floreale è molto molto Presente in quanto si avverte tantissimo si avvertono tantissimo i fiori bianchi ma è un profumo cremoso dove non solo si avvertono i fiori bianchi ma si avverte anche la cremosità che è data in primis dei fiori bianchi perché sappiamo che fiori bianchi come gelsomino e tuberosa danno proprio una cremosità ai profumi il cocco il tiaree danno proprio a terracotta terracotta di garland questa cremosità assurda da il fiorda il fiorda lancio ma che non riesco a parlare il fiorda lancio il gelsomino lì langhi lang Rendono questa fragranza Estiva cioè questo dice Chi dice terracotta dice Vacanza dice estate dice Floreale cremoso tiaree cocco ylang ylang un tutt'uno che però Al mio naso fa emergere non solo il cocco il tiaree ma tantissimo le note floreali quindi so che a molti non piace proprio perché fa emergere non solo la cremosità ma anche il lato Floreale e quindi adoro adoro terracotta numero 3 e al numero 3 non potevo che non mettere Ma la mia dorata lolita lempisca La mia dorata lolita lempisca questo è un altro profumo che ho sentito dire che su molte persone Non dura ragazzi questo su di me Io me lo scorto cioè nel senso che il senso lato mi dura tutto il Giorno e di più di più e di più su di me ha una persistenza Impressionante il pack è meraviglioso Questo è un altro profumo che io reputo infatti ho messo alla postazione 3 e Wow il hang ylang bergamotto Neroli cocco sandalo Vainiglia quindi cocco sandalo vainiglia nero Il hang ylang Questa è una fragranza col botto questa è una fragranza che lolita lempisca a assolutamente azzeccato per l'estate Allora ho sentito da una ragazza che mi ha commentato di le no per me in estate troppo Io non riesco a portarlo per me troppo dolce lo metto in periodo invernale Ragazzi il profumo è soggettivo ogni persona può decidere di mettere un profumo quando e come vuole Io onestamente non riesco a mettere questo profumo in inverno perché per me un profumo Estivo c'è proprio quello striscione io sono estivo Io mi chiamo estate E spacco d'estate e quindi il hang ylang il cocco il neroli e chi più ne ha più ne metta lo rendono un profumo Particolare perché se voi mi dite somiglia Somiglia A monoi di progetto Somiglia a dolce garden No, somiglia a rosa. No E' una somiglia a terracotta di carlè. No è un profumo assi Nonostante hanno tutti questa Riconduzione a che comunque c'è il cocco perché purtroppo io lo amo io amo il cocco d'estate Amo queste fragranze così Dolciose coccose dove dove prevale il hang ylang il sandalo il bergamotto quindi estivi frizzanti fresche che mi riconducono Anche alle creme solari infatti avevo pensato addirittura di farmi un video i profumi che sanno di creme solari Perché ne ho tanti non diversi e quindi sinceramente avevo pensato anche a questo e questo qui per me è un super profumo Meraviglievole dove si avverte tanto il neroli tanto il cocco Tanto il hang ylang e il sandalo tantissimo anche il sandalo che lo rendono una fragranza Toppo per la nostra estate Poi gli ultimi due gli ultimi due profumi Alla postazione numero 2 e alla postazione numero 1 vado a mettere Qui vicino lo sapete un cagnolino di nome Jacopo Alla postazione numero 2 vado a mettere il mio amato Ibiscus palm Di Estruder Che adoro super adoro Ve ne ho parlato qualche video fa L'ho comprato quest'anno E questo è un floreale E un floreale Sente anche la nota Di tuberosa Perché la nota di tuberosa c'è E si avverte in questo profumo Che è cremosissimo Cremosissimo E profume dove si sente il latte di cocco Di nuovo Ma si sente tanto La tuberosa Si avverte li lang ylang Allora Lette così le note E dice ma questa c'ha profumi tutti uguali Vi posso garantire che non è così Anche se hanno moltissime note in comune Perchè io d'estate amo questo mood Vi posso garantire che sono di profumi completamente diversi l'uno dall'altro Cioè i whisk spalm Non c'entra proprio niente con tutto il resto che vi ho mostrato L'ibisco Il frangipane Lo zenzero Il zenzero Lo zenzero La tuberosa Il latte di cocco Li lang ylang Quindi anche se alcune note sono in comune Questi profumi poi diventano Profumi che Non c'entrano nulla l'uno con l'altro Perchè In questo caso Al mio naso Quello che prevale è Tuberosa Latte di cocco Cocco Fiori bianchi Infatti all'interno non solo c'è tuberosa Ma penso che si avverte anche Tipo il gelsomino E quindi Rendono questa fragranza Come Cremosissima Perché comunque è una fragranza molto cremosa Che ci riconduce alle sabbie Alle sabbie Alle spiagge lontane Alle spiagge dei Caraibi Io sono stata alle isole virgini E il viscus palme mi fa ricordare proprio di queste palme Queste Questa sabbia bianchissima Questo mare cristallino Questi fiori che nascono spontaneamente Sono dei fiori bianchi Che nascono spontaneamente sulle spiagge E quindi mi fa ricordare proprio questo mood estivo Anche se non è riconducibile a un profumo di tiare di cocco isolato Anche se vi ho detto che terracotta di garlen è floreale Comunque non si somiglia Tutte queste fragranze sono super super persistenti E come vi dicevo Non ricordo L'uno non ricorda l'altro Nonostante hanno le note in comune Ma alcune note fanno sì che questi profumi si differenzino E diventano totalmente diversi l'uno dall'altro Ma passiamo alla postazione numero uno Quindi all'ultimo profumo che non c'entra niente con tutto il resto E che è un profumo di Andreoli Un profumo di Andreoli che è Malibu Malibu è frizzante È fresco È gioioso Spiritoso Solare Anche un po' agrumato Perché rimane comunque agrumato Quest'anno ho scoperto di amare tantissimo gli agrumati Infatti Ho scoperto di amare tantissimo gli agrumati Infatti Pensavo di prendere anche un agrumato di Montal Oltre a questo che ho preso Che è Malibu di Andreoli Che sto amando alla stra follia E ho scoperto questo mio amore smisurato per gli agrumati Che non sapevo e non pensavo di amare particolarmente Vi voglio leggere le note di Malibu Allora è una fraganza ovviamente di Simone Andreoli All'interno troviamo come note di testa Lime Accordo verde note di cuore Nettare di cocco Ovviamente perché il cocco Non può mai mancare come si dice a Napoli Non ha da mai mancare Perché non c'è estate senza cocco Cocco bello E le note di base Rum e Sandalo Quindi questo Questo è il cocktail perfetto Io dovete sapere che Amo I cocktail tipo Il mojito E questo profumo mi ricorda tantissimo il mojito Perché all'interno al lime Ha rum note di cocco fresco Anche se il mojito non ha note di cocco Questo profumo me lo ricorda tantissimo Perché è un profumo dove io il cocco non ce lo sento particolarmente Ma ci sento il lime La nota fresca del lime La nota un po' pungente del rum Ma non è un rum liquoroso Fastidioso E' un rum Che sa di Di festa Facciamo fiesta Di sandalo Il sandalo per me Associato al Lime Da proprio questo scoppio di estate Questa solarità Freschezza E' un profumo che è molto molto Leggero E' un profumo leggero Ma non che è leggero perché non è persistente Perché vi assicuro che è un profumo super persistente E' un profumo Da un ottimo sillage Ottimo ottimo sillage Come tutti quelli che vi ho fatto vedere In questo video avete visto Profumi low cost Profumi high cost Profumi di nicchia Profumi commerciali Perché io amo i profumi di nicchia Amo i profumi commerciali Amo i profumi high cost E amo i profumi low cost Andreoli è un profumo di nicchia Che trovate nelle profumerie artistiche Come un altro profumo Che trovate nelle profumerie artistiche E' un smanto in mango Quindi Io amo i profumi Perché li amo in generale Non sono una che dice Se non è commerciale non va bene O se non è di nicchia non va bene La mia top ten Finisce qui Perché il mio Mai più Senza E' assolutamente malibu Come vi dicevo Scoperto di amare Queste fragranze Anche un po' agrumate Fresche Dove Si sente proprio A me sembra Un mix Tra un mojito e un margarita Tra assolutamente Tra un mojito e un margarita Amando io i cocktail alcolici d'estate Non sono un ubriacona Ma chi mi segue nelle mie storie di instagram Sa che amo i cocktail d'estate Nella E' il mio mood Il mio mood d'estate sono cocktail Spiaccia Cocco Sandalo Ilang ilang E Mettersi profumi Come se non ci fosse un domani D'altro giorno Sono stata dalla mia amica A farmi le unghiette E la mia amica mi fa Sei la mia cliente Più profumata E meno male Che qui c'è gente che puzza E abbasso le puzze E vive profumi Profumi tutta la vita Allora Io vi lascio Giù nell'info box Il link di Patrizia E di Mary Non vedo l'ora di vedere i vostri video Ragazzi Sono troppo troppo curiosa Vedrete altri video Perché in quest'estate ho comprato un sacco di profumi Quindi E ancora ne voglio comprare Questo è il bello Questo è il bello E vedrete altri video profumosi Un grosso bacio a Patrizia Un grosso bacio a Mary Grazie Grazie ragazze per aver collaborato con me Verrò subito a vedere anche i vostri video Andate a vedere anche i video Di Mary e di Patrizia Anche voi Se il mio video vi è piaciuto Spolliciate in su Commentatevi come se non ci fossero domani Mi raccomando Ditemi qual è la vostra top ten estiva Se vi piace questo video interminabile Se volete altri video profumosi Volete il video sulle acque profumate? Volete il video su altri profumi estivi? Scrivetevi Mi raccomando Spolliciate in su Seguitemi su Instagram Che lì sono attivissima Ogni giorno Vi mostro una mia foto in topless Non è bello Io vi saluto Vi ringrazio Vi mando un grosso bacio Spolliciate in su Ciao E buon'estate Ciao